Il film si chiama Kuma, siamo conosciuti, era un teatro di performance, vedevo che i suoi movimenti erano molto naturali, anche sia teatro che in video, ma anche nella sua vita, non è che sia adattato alla camera. Sì, appunto, mi piaceva mischiare anche i suoni della natura con questo mondo, di questo lavoro sempre con questi suoni in ambiente, senza dialoghi, cercando quasi dei luoghi dove so che i suoni si mischiano tra di loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.